Fino all'avvento del proibizionismo, la cannabis, ossia la pianta della canapa, era stata per secoli l'importante materia prima per la produzione di fibre tessili e carta e per la preparazione di farmaci naturali in virtù delle sue proprietà terapeutiche menzionate anche da Plinio il Vecchio nella Naturalis Historia. Dal 31 ottobre al 2 novembre la mostra ad oltremare ospiterà Canapa in Mostra, la prima fiera internazionale sull'impiego industriale e medico della canapa per divulgare i possibili utilizzi della pianta come risorsa economica, terapeutica e ambientale. Saranno tantissime le novità, ci saranno moltissimi ricercatori che parleranno di tutti gli utilizzi alternativi che conosciamo pochissimo della canapa, in particolar modo della canapa industriale. Numerosi i temi della mostra, la storia della canapa in Italia e in Campania, l'uso per la bonifica dei terreni e nella bioedilizia, la produzione di combustibile vegetale, gli aspetti nutrizionali, l'impiego medicinale e cosmetico. Durante la rassegna si terranno laboratori di artigianato e concerti di musica dal vivo. Napoli è una città che guarda al futuro e futuro è sostenibilità ed ecosostenibilità, trovare fonti alternative per la nostra crescita e il nostro sviluppo e quindi la canapa a Napoli una tre giorni internazionale per raccontare soprattutto l'uso industriale che ne possiamo avere, raccontare che ci sono decine di ettari già nella nostra regione che danno lavoro a giovanissimi ragazzi attraverso le cooperative e quindi la fame e la sete di conoscenza che è propria della nostra città, accompagnerà questa tre giorni alla Mostra d'Ultemare per saperne di più, accoglieremo tantissimi esperti e in questo scambio di conoscenze si fonda la nostra prospettiva di futuro.